Le migliori produzioni originali di musica jazz arrivano nei teatri piemontesi con la prima edizione del Torino Jazz Festival Piemonte, vetrina e anticipazione del Torino Jazz Festival 2019. Dal 16 marzo al 21 aprile il cartellone coinvolgerà 14 comuni distribuiti in tutte le province, valorizzando quanto i jazz club e le rassegne locali già realizzano per dare vita ad un programma musicale di grande rilievo. Accanto agli artisti italiani una qualificata compagine di ospiti internazionali accompagnerà le 14 serate del festival, portando sui palcoscenici interpreti del calibro di Fred Weasley e Nubia Garcia, fino al giovane talento di Rita Paies. Nato dalla collaborazione tra la Fondazione Piemonte dal Vivo, la città di Torino e il consorzio Piemonte Jazz, il festival ha preso forma sotto la direzione artistica di Diego Barotti, Giorgio Licalzi e Fulvio Albano. Oggi abbiamo l'occasione di instaurare un rapporto privilegiato, rappresentando tra l'altro tutte le realtà e associazioni enti che creano iniziative, che fanno jazz sulla regione. Questo è un momento straordinario perché il festival di Torino, il suo nucleo, sta diventando qualcosa di allargato, inclusivo e sta rappresentando anche la regione di Piemonte, grazie anche e soprattutto al nostro lavoro del consorzio Piemonte Jazz. Tutte le informazioni e il programma dettagliato del Torino Jazz Festival Piemonte sono disponibili sul sito piemontegjazz.it.